Mi ricordo che facevano un cazzo fritto, ero nel 2020, tenevo 23 anni e a poco avevo pigliato oretti di cittadinanza, quando arrivò la seconda ondata. A 23 anni, a questa età, vuoi variare, vuoi amballare, tu vuoi portare i figli, tu hai ammere anche i compagni, tuttavia ci hanno pigliato proprio gli occhi, arrivò in un'emica che non si arriva, che ovvero ci ha sfrandecato. All'interessato abbiamo fatto tutto quanto, c'è per indagare scelte, abbiamo cacciato la palla e abbiamo fatto quello che tutti si aspettavano a noi. L'unica cosa giusta è che abbiamo fatto? A ricotta. Assolutamente a ricotta. Una vallare esagerata, giorni e notti, tutta pizzaiola, cantante e virologa. S'è imbitata un coppo di vana, una santa pacienza. Mi scappa ancora a rire, sai, quando penso a chi lo perita in merda, io ciòlta che ammata notte. E' così che siamo diventati eroi durante il coronavirus del 2020. Ah, dimenticavo. Acirata.